Siamo arrivati in un'altra parte. Vai, piano piano, piano piano, 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 così, bravo, uno di qua e uno di là, piano piano, 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 ok così, perfetto, spingi più con quello di sinistra, bravo, ok vai, sinistra, 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 sinistra 2, sinistra 2, la drissera, la drissera, ok, fermo così, colpettino a destra, Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.